Istituzioni politiche e religiose a confronto a Caltagirone nella sala convegni dell'hotel Villa Sturzo dove il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta ha incontrato il vescovo della diocesi calatina Monsignor Calogero Peri per affrontare una serie di tematiche legate all'attuale status sociale di crisi economica vissuta da molte famiglie peraltro relegate ai margini del disagio della povertà del terzo millennio. Credo che sia particolarmente importante in una fase difficile della storia del nostro paese, dell'Italia, della Sicilia laddove i poveri rischiano di pagare un grosso prezzo e noi dobbiamo assolutamente evitare che la situazione di crisi economica si trasformi in una sorta di macelleria sociale che colpisca prevalentemente i poveri. Noi i più deboli li dobbiamo garantire perché il rigore e i risparmi non possono trovare come vittime coloro che sono stati da sempre vittime. Il tema del convegno welfare in tempi di crisi, strumenti per contrastare vecchie e nuove povertà è scaturito da una precedente richiesta avanzata dal vescovo di Caltagirone Monsignor Calogero Peri al governatore Crocetta al quale inviò una lettera per evidenziare il disagio sociale del calatino. Il presidente della regione a rispondere alla lettera dell'alto prelato ha così assicurato la sua presenza a Caltagirone. L'alto prelato che si colloca in quelli che già stiamo per fare e abbiamo fatto si tratta semplicemente di dare una continuità e di non farlo diventare un momento isolato. Certo è un momento importante perché abbiamo un interlocutore così autorevole che forse alle domande qualche risposta potrà darci. Ci auguriamo che siano in termini di speranza per questa nostra terra e soprattutto il nostro territorio. Grazie a tutti.